Hai giocato al fianco di Zuparic, hai giocato con Campagnaro, da qualche settimana stai giocando con Mandragora e i risultati dicono che questa è una coppia di centrali difensivi davvero importante per il Pescara. Sì, ma più che altro per i risultati perché si sa che è così, però a prescindere da quelli chiunque è entrato in campo ha sempre dato il massimo e questo è fondamentale, non è solo i centrali o la difesa o il portiere ma è tutta la squadra, come ho sempre detto, la difesa parte anche dall'Appadura, dal nostro primo attaccante e quando tutti danno una mano è più facile per tutti. Michele, parliamo di questa gara di sabato a Chiavari, troverete di fronte un brutto cliente e tu probabilmente dovrai marcare un giocatore come Caputo che è un giocatore che quest'anno sta facendo molto bene. Sì, è una squadra fortissima, molto preparata, sappiamo che può metterci in difficoltà, poi giocano in casa quindi dobbiamo stare comunque attenti. I giocatori ce li hanno, come ormai tutte le squadre di Serie B hanno un grosso potenziale, però noi andremo lì come facciamo sempre, daremo il massimo e cercheremo di portare a casa un buon risultato. Parlando ancora di questa partita, quali potrebbero essere le insidie della sfida di sabato? Un campo piccolo, una squadra che in casa sa farsi rispettare? Di sicuro, certamente l'hanno dimostrato, è un campo piccolo, sintetico, però come dicevo prima non dobbiamo trovare alibi, dobbiamo andare lì con la stessa mentalità di queste ultime partite dare il massimo, ognuno dal primo all'ultimo e poi i risultati arriveranno. Quattro partite, Pescara punterà a fare il massimo, 12 punti, incontrerete una squadra in lotta per i play-off e poi tre squadre che invece devono cercare la salvezza. Sì, assolutamente, è durissima perché si sa che soprattutto alla fine le squadre che lottano per salvarsi danno tutto, veramente tutto di più, quindi dovremo stare attenti, ma pensiamo partita per partita ora come ora c'è l'entella e siamo concentrati su di loro, poi si prenderà quello che viene.